Ciao, sono Mario Romani e mi occupo di aerografia, consulenze, corsi e docenze dal 1990. Proprio attraverso questa esperienza pluriennale ho incontrato tantissimi professionisti o anche hobbysti esigenti che richiedevano soluzioni innovative e facili da usare per quanto riguardava l'aerografia. Supporti innovativi, veloci da utilizzare in tanti campi di applicazione. Con l'azienda Teca Design, leader nel settore delle belle arti, è nata dunque la linea di stencil Infinity Mask. Infinity Mask è stata concepita con diversi punti di forza. L'innovazione della struttura ha più livelli sovrapponibili e non tanti livelli nello stesso piano, cosa che permette di realizzare in maniera facilissima soggetti complessi in pochi minuti. La particolare forma sagomata che facilita l'allineamento e la sovrapposizione dei livelli anche a chi è privo completamente di esperienza. La possibilità di utilizzare questa linea in diversi campi e anche diversi fra loro come custom, illustrazione, cake design, pasticceria, body painting e tante altre. La particolare e identificativa scelta grafica delle confezioni per distinguere facilmente le varie linee tra di loro. La presenza di una linea base dedicata ai principianti che si avvicinano alla tecnica e vogliono esercitarsi con le figure solide per consolidare la loro tecnica oppure utilizzare gli stencil multiforma generici per aiutarsi nell'uso a mano libera dell'aerografo senza sporcare le zone contigue. La realizzazione di brevi tutorial video gratuiti e visibili a tutti per la maggior parte degli stencil specie per i più complessi, la possibilità di richiedere soggetti o figure personalizzate per lavori particolari. Aerografare oggi è infinitamente facile con Infinity Mask, la nuova linea di sagome per l'aerografia.